nella mia esperienza di organizzatrice di viaggi in india posso dire che la cucina ayurvedica è tra i ricordi più belli e intensi per tutti è una festa di colori profumi sapori spezie ingredienti semplici ma accostati con creatività un mix multisensoriale che nutre corpo mente e spirito tanti mi chiedono di imparare questa cucina festosa una volta arrivati a casa e tu cosa rispondi mi chiederete voi semplice dico vieni allo spazio solo salute nel centro di milano e partecipa al corso di cucina ayurvedica con me simona vignali naturopata insegnante di ayurveda esperta di alimentazione salutista e con serena babbo vegan e raw chef ti aspettiamo per una serata dove scoprirai il mondo della cucina ayurvedica conoscerai le spezie indiane e come usarle nei tuoi piatti assisterai alla preparazione di squisite ricette ayurvediche salutiste e le gusterai in compagnia durante la cena conclusiva cosa aspetti contattami per conoscere date e orari prenota subito la tua lezione e ci vediamo al corso naturalmente sei anche tu un fan della cucina ayurvedica benissimo clicca mi piace condividi questo video scrivi un commento e se vuoi seguire i miei video iscriviti al canale ciao